Nella creazione Dio comandò le piante di portare frutto, ciascuna secondo il proprio genere. Allo stesso modo ai cristiani, piante vive della Chiesa, ordina di portare frutti di devozione, ciascuno secondo la propria natura e la propria vocazione. La devozione deve essere vissuta in modo diverso dal gentiluomo, dall'artigiano, dal domestico, dal principe, dalla vedova, dalla nubile, dalla sposa. Ma non basta. L'esercizio della devozione deve essere proporzionato alle forze, alle occupazioni e ai doveri dei singoli. Ti sembrerebbe cosa fatta bene che un vescovo pretendesse di vivere in solitudine come un certosino? E che diresti di gente sposata che non volesse mettere da parte qualche soldo in più dei cappuccini? Di un artigiano che passasse le sue giornate in chiesa come un religioso? E di un religioso sempre alla rincorsa di servizi da rendere al prossimo, in gara con il vescovo? Non ti pare che una tal sorta di devozione sarebbe ridicola, squilibrata e insopportabile? Eppure queste stranezze capitano spesso e la gente di mondo, che non distingue o non vuol distinguere tra la devozione e le originalità di chi pretende essere devoto, mormora e biasima la devozione, che non deve essere confusa con queste stranezze. Se la devozione è autentica, non rovina proprio niente, anzi, perfeziona tutto. E quando va contro la vocazione legittima, senza esitazione, è indubbiamente falsa. Aristotele dice che l'ape ricava il miele dai fiori senza danneggiarli, e li lascia intatti e freschi come li aveva trovati. La vera devozione fa ancora meglio, perché non solo non porta danno alle vocazioni e alle occupazioni, ma al contrario le arricchisce e le rende più belle. Qualunque genere di pietra preziosa immersa nel miele diventa più splendente, ognuna secondo il proprio colore. Lo stesso avviene per i cristiani. Tutti diventano più cordiali e simpatici nella propria vocazione, se le affiancano la devozione. La cura per la famiglia diventa serena, più sincero l'amore tra marito e moglie, più fedele il servizio del principe e tutte le occupazioni più dolci e piacevoli. Pretendere di eliminare la vita devota dalla caserma del soldato, dalla bottega dell'artigiano, dalla corte del principe, dall'intimità degli sposi, è un errore, anzi, un'eresia. E' vero che la devozione contemplativa, monastica e religiosa non può essere vissuta in quelle vocazioni, ma è anche vero che oltre a queste tre devozioni, ce ne sono tante altre adatte a portare alla perfezione quelli che vivono fuori dai monasteri. Abramo, Isacco, Giacobbe, Davide, Giobbe, Tobia, Sara, Rebecca e Giuditta ne sono la prova per l'Antico Testamento. Nel Nuovo abbiamo San Giuseppe, Lidia, San Crispino, che vissero la perfetta devozione nelle loro botteghe. È capitato anche che molti abbiano perso la perfezione nella solitudine, per sé molto utile alla vita per loro. Mentre l'avevano conservata in mezzo alla moltitudine, che sembra invece, di natura sua, poco adatta a favorire la perfezione. Lot, dice San Gregorio, fu casto in città e peccatore nella solitudine. Poco importa dove ci troviamo, ovunque possiamo e dobbiamo aspirare alla devozione.